Bentornati su GoGames o benvenuti se siete nuovi. Oggi andiamo a provare Graveyard Keeper, un titolo di cui non conosco molto, so solo che mi è stato caldamente consigliato. È disponibile sul PlayStation Plus Extra. L'unica cosa che so di questo gioco, leggendo la descrizione, perché ovviamente dopo che mi è stato consigliato sono andata a leggere la descrizione appunto nel PlayStation Store, e c'è scritto che andremo a gestire un cimitero. Ho visto anche che è in italiano, quindi tanto meglio è stato tradotto, per cui partiamo e vediamo di cosa si tratta. Se magari ci piace particolarmente, potremmo anche portare una serie. Remix per iniziare, iniziamo. Allora intanto, ok, ci sono anche delle espansioni che però non fanno parte dell'abbonamento, visto che sono a pagamento, quindi per ora ci gustiamo il gioco base. E abbassiamo leggermente la musica. E niente, direi che va bene così, le opzioni non offrono molto, per cui iniziamo una nuova partita. Da un giorno qualunque il nostro eroe si sta affrettando verso casa, dove qualcuno di molto importante lo sta aspettando. Anche nella routine quotidiana c'è spazio per amare e sentirsi amati. Un po' più lento però, soprattutto quando sai che qualcuno ti manca. Ma è morto? Cos'è successo? Dov'è finito tutto? Calmati, hai solo voltato la pagina della tua vita. Ti attende un intero capitolo nuovo. Ma devo tornare a casa? Posso tornare a casa? C'è sempre un modo per tornare a casa. Fammi pensare, la tua nuova casa è un cimitero. Non è proprio allettante. Significa che sono morto? Significa che sei un custode del cimitero ora. Un salto di qualità. Io devo tornare a casa dal mio amore. Allora devi essere bravo custode del cimitero. Un bravo custode del cimitero. Dovresti disotterrare Gerardo. Ti aiuterà a sistemare tutto. Ma... Chi? Che strana visione. Cos'è questo incubo? Ok, cerchiamo Gerardo. Posso... Ok, questo... Anche questo... Cucina. Possiamo anche cucinare? Uh, figo. Ma se entro qui... Ah, è chiuso, ok. Quindi abbiamo due casse per l'inventario per riporre cose. Lo stile è figo. Ah, così a mano proprio. Santa sarda su un teschio. Sei tu Gerardo. Perché pensi che io sia Gerardo? Un uomo con un occhio rosso mi ha indicato di disotterrare un tale Gerardo. Un occhio rosso, la ricordo. Oh, sarda, giusto. Sono Gerardo. Come hai fatto a trovarmi? L'uomo mi ha detto che avresti risposto a tutte le mie domande. Bene, bene. Ma prima lascia che ti chieda. Tu chi sei e dove sarda siamo noi? Deve essere un sogno. Nulla di tutto ciò può essere reale. Non lo so. Stanno a parlare con teschio. Sei il nuovo custode del cimitero. Cos'altro ricordo? Fammi pensare. Ricordo quel suono. Andiamo a dare un'occhiata. Tutto è così strano. Nulla di tutto questo ha senso. Ricordo bene quella campana. E un asino. Qualcosa che non va in quell'animale. Potrebbe essere pericoloso. L'asino? E ci riparliamo? Vai a parlare con la... Dobbiamo andare a parlare con l'asino. Procurati un cadavere fresco dalla città. Wow, un asino parlante. Tu riesci a capirmi? Parliamo. Tu chi sei? Sono un lavoratore precario. Questo carrello non è mio. Quindi devo lavorare per il bastardo capitalista che lo possiede. Meraviglioso. Le guadagno solo 5 carate al giorno. Porello, sottopagato, sfruttato. È una situazione profondamente umiliante. E sai da dove vengo? Giusto, compagno? Quel bastardo finge di non capire niente di quello che dico. Ad ogni modo, ho bisogno di tornare in città. Sbarazzati di questo e te ne porterò uno nuovo. Che strana terra. Facciamo la torca da avere là, così? Ehi, cosa stai guardando? Afferra quel cadavere succoso mentre è ancora fresco. A che pro? Sento che dovremmo portarlo all'obitorio. Non ricordo esattamente perché. Ma sono certo che sarà divertente, redditizio. Non ho dubbi. Sto per vomitare. Facciamolo. Il vomito o il cadavere? X per raccogliere, ok. Vai. Sarda, mi piace questo posto. Mi sento a casa. Mi sa che era il vecchio becchino questo. Metto il corpo sul tavolo dell'autopsia. Quindi, cosa si fa adesso? Oh sì, taglia un po' di carne dal cadavere. Potrebbe essere un buon inizio. Cosa? Anche no. Non è giusto. Certo, certo. Non è giusto. Come ho fatto a dimenticarlo? Forse perché sono un teschio parlante con l'amnesia. È giusto che tu non sappia dove sei? È giusto che io sia un teschio? Niente è giusto qui. Quindi chiudi quella sarda di bocca e fai quello che ti dico. Mi prometti che mi direi come tornare a casa? Devi solo barattare la carne per una birra alla taverna del paese. I teschi parlanti non mentono mai. E poi portami la birra. Che c'è fai da birra? Hai sbloccato la nuova tecnologia ed hai ottenuto progetto, pallet, estrai carne. Ok, abbiamo due progetti. E possiamo estrarre la carne. Ma perché dobbiamo estrarre la carne? Ah, così? Estrai. Vai. Perché estraiamo carne dai cadaveri? Oddio, che schifo! È sbloccato la nuova tecnologia. Hamburger, sandwich e carne al forno. È disgustoso. Ti ci abituerai. Mi sa che tu devi pure mangiare. Quindi cosa dovrei fare con il cadavere? Non lo so, seppelliamolo. Prendi il cadavere e ti aspetta il cimitero. Prendi il corpo. Dove è andato? È là. Ma qui non riusciamo a passare. Seppelliamolo. Allora, usa il tavolo del progetto nel cimitero. Scegli un sito per la tomba e inizia a scavare con la tua pala. Metti con cura il corpo, ciò che ne rimane nella tomba. Seppellisci, decora. Attenzione, non usa le teschi di capra e stelle capovolti come decorazione. Ok? Non terremo a mente. No? Qui, costruisci il sito tombale. Ah, possiamo scegliere noi dove... Piazziamolo qui. Vai. Spraviamo. Prendiamo il cadavere. Ok. Ben fatto. Questo certificato di sepoltura ricordo. Soldi, alcol. Alcol. Ricordo che mi piaceva molto. Insomma, questo è un ex imbriacone. Oh, sarda. Ecco che arriva il vescovo. Lui è il tuo capo. Ok. Oh, ecco. Chiedi di questo certificato di sepoltura. Dovrebbe saperne qualcosa. Meglio che me ne vada ora. Sarò all'obitorio aspettando la mia birra. Oh, ma dovevo pure parla col vescovo. Stiamo sbloccando una maria di trofei. Oh, sono così stanco. Perché? Perché devo venire qui ogni settimana? Eh, non venì! Ma guarda questo. Oh, cielo, il nuovo custode. Lo abbiamo aspettato per 30 anni, ma lui fa finta che sia tutto normale. Che senso? Che dice? Mi spiace dirtelo, ma il tuo cimitero è un disastro. Adesso, con calma. Non posso promuoverti a ecclesiastico fino a quando non l'avrai sistemato. Ah, nome del luogo attuale. Informazioni importanti sul luogo. Qualità del cimitero. Attrattiva della chiesa. Ripara le tombe per aumentare la qualità generale del cimitero. Probabilmente ti occorreranno risorse speciali per fare ciò. No, vabbè, ma è fichissimo. Crea cartello in legno. Non appena la qualità del tuo cimitero sarà almeno 5, potrò appolo muoverti. A che scopo, però? Sembri un leader spirituale ed io sono bravo ad inquadrare le persone. Ah ah! Sono bravo in tutto. Ecco perché sono stato scelto per rappresentare la sua volontà. Ah ah! Cioè, dove scopo estra? Il tuo predecessore teneva le sue cose in un baule e qui da qualche parte dovresti dargli un'occhiata. Verrò di nuovo a trovarti la prossima settimana. In realtà mi trovo qui... Mi trovi qui ogni... Ogni simbolo? Forse non sto sognando. Ho mangiato qualcosa. Oh, sto aspettando. Cosa dovrei dire? Perché sei venuto qui? Fa parte del mio dovere. La parte spiacevole è una specie di vecchia tradizione. Non so molte delle tradizioni e dei rituali. Sono qui solo per rappresentare la sua potenza e gloria. Ah ah! Ho una piccola domanda. Cos'è questo certificato di sepoltura? Non appena un corpo viene sepolto, puoi scambiare il certificato di sepoltura per denaro alla taverna del villaggio. Io non sono il custode e stavo tornando a casa e al lavoro. Come posso sistemare il cimitero? Ho sistemato il cimitero. Parlando di questo certificato... E... Parlando di questo certificato? Puoi dirmi di più? È il tuo pagamento per far riposare in eterno i nostri fratelli. Fa tutto parte di un antico contratto tra la città e il villaggio. Non appena un corpo viene sepolto, puoi scambiare il certificato di sepoltura per denaro alla taverna del villaggio. Ah ok! Oddio, sembra un po' troppo complicato per essere un sogno. E dov'è questo villaggio? Basta dirigersi a est dal cancello del cimitero, seguendo la vecchia strada di pietra. Città? Oh, la città è il cuore della nostra gloriosa terra. Il palazzo, la cattedrale, è tutto lì. Dovresti vederla da solo. Ma con quei vestiti sarebbe alquanto divertente. Ah ah! Come posso visitare la città? Non è lontana dal villaggio. Dirigiti a sud della taverna. Ok, e le altre... Ah ok! Come posso sistemare il cimitero? Aggiusta tutte le tombe, non ci vorrà nemmeno un'ora, ma è il tuo lavoro. E' ok. Io non sono il custode. Devo tornare a casa, c'è un teschio parlante, mi ha costretto a macellare un cadavere. Ah ah, bella battuta, sono un umorista anch'io, eccone una. Chi è BB? Eh, il BB lo sappiamo noi chi è. Io? Ah, perché? Bello e beatificato. Ah 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 ah! Eeeh! Ma vai a cagare, ti ignoro proprio. Vai via. Se esaurisci i tuoi kit di riparazione e la mutazione e il cimitero puoi sempre creare dei nuovi. Eeeh. Per creare nuovi oggetti è necessario sbloccare la relativa tecnologia. Ciò costa punti tecnologici. Premi, vabbè, il tasto centrale per aprire l'albero tecnologico. I punti rossi rappresentano le tue abilità manuali e la tua capacità di lavorare con i materiali. I punti verdi rappresentano la tua conoscenza del mondo che ti circonda e della natura stessa. I punti blu rappresentano la tua conoscenza spirituale del mondo immateriale. Otterrai la tua prima, il tuo primo punto blu presso tavola di studio nella cantina della chiesa. Guadagni punti ogni azione che compi. Puoi anche ottenere punti studiando nuovi oggetti su un tavolo speciale. Tutta questa roba io non me la ricorderò mai. Ho sbloccato la nuova tecnologia. Progetto riserva di pietre. Croce di pietre. Puoi raccogliere un piccolo pezzo di pietra da una piccola roccia e ottenere un pezzo enorme da una grande. Ok. Riserva di legname, abbatti un albero piccolo per ottenere un trucchetto per raccogliere bastoncini dai cespugli secchi. Allora impissi conosciuti, becchino, che siamo noi? Gerardo, che arteschio, che vuole la birra. L'asino, consegna corpi da una scuderia di sinistra, ok? Rega, predica e comportati come se avessi vinto la lotteria. Che soggettone. Ma c'è anche la mappa. Ok, quindi ora dobbiamo andare qui. Può essere venduto. Analisi non completata. Ora facciamo l'analisi. Questo è il baule, quindi devo prenderle. Le cose, non ho capito. Vabbè, qui abbiamo il baule con le cose. Riesuma. Possiamo riesumare anche i corpi. Quindi andiamo a seguire la freccia e vediamo... Cosa ci dice di fare? Per ora l'impatto è molto positivo, molto figo. Comunque è divertente. E ora stiamo andando a scambiare il certificato, immagino. Quello? Possiamo anche deviare, volendo. Possiamo rubare gli ortaggi? Proviamo. Sì. Ma non è che si incazzano? Non possiamo prendere niente. Non è ancora pronta, mi sa la roba. Ok. Questa è la taverna. Signorina. Signorina. Devi essere il nuovo custode del cimitero. Così mi è stato detto. Ma come lo sapevi? Oh, se vivi tutto il tempo che ho, probabilmente imparerai anche tu a leggere le persone. Ma dove sono le buone maniere? Sono la signora Catena. Moglie di Orazio. Piacere di conoscerci. Ho alcune domande su... O farei meglio a parlare con mio marito. È lui che comanda qui. Non è solo il custode della taverna, ma è anche il capo eletto del villaggio. Inoltre gli piace davvero parlare. Tutto quello che io posso fare è venderti alcune ricette. Ok. Quindi lei vende le ricette. E lui sarà il marito. Benvenuto alla taverna del cavallo morto. Io sono Orazio. Come posso aiutarti? Vengo dal cimitero. Mi sono svegliato qui oggi e da allora tutto sembra una follia. Oh, scusa. Come ho fatto a non riconoscerti? Bene. Tutto bene. Che senso? Le cose vanno avanti nel nostro piccolo villaggio. Quando prevedi di inaugurare la chiesa? Devo prima sistemare il cimitero. Certo, certo. E' passato un po' di tempo da quando qualcuno se ne occupava. Quindi mettiamoci al lavoro. Ok. Come posso aiutarti? Certificato. Il vescovo mi ha detto che avresti comprato i miei certificati di sepoltura. Corretto, come capo del villaggio. Secondo l'antico contratto devo scambiarlo per denaro. Ovviamente se ho del denaro. Infatti in che senso? Il villaggio sta attraversando momenti difficili. Siamo a corto di denaro. Ma non appena inaugurerai la chiesa i pellegrini porteranno molte monete lucenti nelle casse del villaggio. Sai come posso tornare a casa? Puoi dirmi dove sono? Perché ho davvero bisogno di tornare a casa. L'amore della mia vita sarà così preoccupato. Sei a cavallo morto? Ok. Mi sembra medivale. Forse ho viaggiato nel tempo. E che anno è adesso? Ah no. Cosa intendi? Il tempo impiegato alla Terra per completare una rivoluzione attorno al Sole. Oh hai ascoltato le sciocchezze dell'astrologo. Ma che sa di questo? Tutti sanno che la Terra è piatta. No vabbè. Ma ho capito. Sono passati 200 anni dall'antico contratto e 210 dal lasciamo stare. E qual è il nome del nostro amato regno? Il regno. Sicuramente non è così amato qui al villaggio. Hai qualche altra domanda? Eh, lascia passare. È piuttosto complicato. L'inquisitore può rilasciare o lascia passare per la città oppure puoi semplicemente acquistare la cittadinanza. Come? Fammi pensare. Eh, in realtà c'è un abitante del villaggio che potrebbe aiutarti. La signora fiamma. Forse lei può aiutarti. Scambiamo. La carne è una prelibatezza del nostro villaggio. Sarei felice di acquistarne un po'. Ho solo bisogno di vedere il marchio della carne reale stampato. Che furtì. Parecchi anni fa ci fu un incidente con della carne inappropriata. Da allora tutta la carne deve essere approvata dall'autorità reale. E l'ultima cosa che mi serve sono problemi con la città. La tua carne ha un marchio? No. Non voglio nemmeno sapere dove hai preso quella carne non autorizzata. Ma wow, sembra davvero appetitosa. Senza un marchio ho le mani legate. Secondo me non è così tanto appetitosa, però... Come faccio a ottenere questo marchio? Oh, puoi inviare un modulo alla corte reale attraverso la cassetta postale vicino alla tua chiesa. Ti costerà un po'. Ma c'è un altro modo. Te lo dico solo perché siamo compaesani. Avvicinati. E questo tizio, chiamato il serpente, penso che abbia un marchio reale falso. Ma ad essere onesti, non lo vado... Non lo vedo da un pezzo. Non lo vado da un pezzo. Puoi chiedere alla signora a fiamma. Lei viene qui ogni... Ma quelli praticamente è come se fossero i loro giorni. Commetto che può aiutare a trovare il serpente. Cioè è come se fosse il loro calendario. Distinguono le giornate con quei simboli. Commercia. Potreste gentilmente portare questa lettera al nostro fabbro Cresvold. Certo, dove posso trovarlo? Nella zona sud orientale del villaggio. Ok. Può essere venduto. Proviamo. 1,50. Realizzare offerta. Ah, qui si possono acquistare cose. Quello voleva birra, ma c'avevo per comprare birra. Un boccale di birra. Proviamo. Ah, ci dà 1,15. Ok. Finalizza. Zombie fattoria. Vabbè, ma è fichissima sta cosa. Ok, a posto. Ok, allora andiamo dal fabbro. Cavolo, però è notte adesso. Che dovrebbe essere quello lì giù, in teoria. Noi dovremmo essere la Locanda lì in mezzo. Quindi dovremmo girare di qua. Eccolo. Vai. Ehi, che cosa stai guardando? Nulla, sto solo dando un'occhiata. Penso di essere il custode del cimitero locale. Penso. Posso chiederti chi sei? Purtroppo sono il fabbro del posto. Il mio nome è Kresvold. Dagli la lettera, commercia. Dagli la lettera. Ho una lettera aperta da Orazio. Una lettera. Naturalmente ad un minuto di distanza e non può disturbarsi a venire da solo. Immagino che le vecchie abitudini non muoiano mai. Grazie, mi dispiace per il lamento. Sembra sia diventata una mia nuova abitudine. Ho di nuovo le melme. Orazio mi ha chiesto di sbarazzarmene. Non ho tempo per quei fastidiosi bastardi verdi, ma forse mi puoi aiutare. Rendi questa spada arrugginita e una pozione energetica. La spada è rotta, ma puoi ripararla con una cote sulla macina proprio dietro di me. Puoi tenere la cote. Forse ti servirà per riparare le pale qualche volta. Se riesci a ucciderli, portami i loro resti e ti fornirò dei materiali. Dovrebbero essere dalla parte opposta di casa mia, vicino alle pozzanghere. Ok. Diverse azioni nel gioco consumano energia. Creare, raccogliere e combattere costa energia. Nei combattimenti è importante anche la salute. Premi quadrato per attaccare. Puoi sempre recuperare salute ed energia con cibo e pozioni. Premi tasto centrale per aprire l'inventario. Anche dormire e ripristinare la tua salute ed energia. Ok. Yee, yee, dove trovare il metallo? C'è una cosa. Piace anche a me lavorare con il metallo. Dove posso trovare del minerale? Puoi trovare minerali metallici nel terreno paludoso. C'è un'enorme palude ovest dall'altra parte del fiume. Di solito collezionavo il minerale lì, prima che il ponte crollasse. Ho bloccato una tecnologia ed è ottenuto fornace. Rialingotto di ferro. Ferro della palude. Ok. Puoi raccogliere minerali. Ok. A commercio ora direi di no. Dobbiamo aggiustare la spada arrugginita, che è questa qui, con la cote. Crea. Lavora. Ma è fighissimo. Quindi dobbiamo andare a uccidere le melme. Qua dietro. Ok. Che schifo. Basta. Non ce n'è più? Sono i polli. Ci sono le uova. Rubiamo le uova? Possiamo rubare? Ho sbloccato una tecnologia. Ah, quindi anche interagendo con le robe che troviamo in giro, possiamo comunque apprendere ricette e tecnologie. Ok. 5 uova, 10 monete. E abbiamo 1,20. Ok. Magari adesso evitiamo di comprare. Vabbè, torniamo dal fabbro. Mi sono incastrata malissimo. Vai. Abbiamo sconfitto. Non mi sa la ridere. Ottimo lavoro. Prendi questa cote. Ti basta affilare i tuoi strumenti rotti per renderli come nuovi. Possiamo fare gelatina verde e gelatina rossa. Porti metalliche. Ah, ok. La cote ha una durata. Perfetto. Infatti questa costa 10 d'argento che noi non abbiamo assolutamente. quindi, devo tornare a casa, vabbè, dal mio amore. Devo portare la birra al teschio e devo tornare da Orazio per dirgli che ho consegnato la lettera. Quindi torniamo da lui. Ma qui ci possiamo rubare qualcosa, tipo. Per curiosità. Ancora è una tecnologia. Peccato. Potevamo rubare. Questo sta a giocare a dati da solo. E' bello che tu sappi usare una spada. Krezvolt mi ha raccontato di come lo hai aiutato. Come ha fatto? Ecco, prendi una birra, offri la casa. Eh, mannaia. Abbiamo sprecato. Questo cos'è? E' teletrasporto. Quindi possiamo usare anche questa per il teletrasporto. Non abbiamo... No, no, non era metti uno. Eh, va, là, va. Era per capire se... C'era una descrizione per capire dove usarla, come usarla, quando usarla, ma evidentemente no. Quindi in teoria possiamo tornare a casa ora. Anche se in questa giornata dovrebbe esserci la signora che ci ha detto lui. Non era nel rosso. Io ho paura che dobbiamo iniziare a segnare le cose. Ok. Sì, stiamo tornando a casa. Ma questo qui, se io ci parlo? Per ordine grande inquisitore. Questo percorso è chiuso fino a... Quel simbolino sopra, ok. Va bene. Non si arrabbi. Ma se io volessi... Ah, si può! E consumiamo la stamina. Questo? Come... Ok, così. Ma se io spacco anche... La roccia. Ok, tutta roba piccolina. Ci infiliamo in tasca? Va bene, approfittiamo. Che fa? Ma... Ok. Si incastra malissimo in mezzo alle due siepi. Ma ci sono anche i funghi. Proviamo un attimo. Oltre un cone ce lo portiamo appresso. Cosa vuole? Vieni qui. Dove sei stato? Ero al villaggio. Questo posto è così strano ma sembra così reale. E a tutti sta bene che io sia apparso dal nulla. Tarda, stai rubando i miei pensieri. Rubare. Ricordo che c'è una cantina a casa tua. Alcune scorte potrebbero essere conservate lì. Ok. Sbloccata una tecnologia. Fuoco commestibile. Li puoi raccogliere. Le bacche. E la mela. Ok. Grano esattamente. Ricordo che lo usavo per farci il pane. Le torte. Dolci torte alle bacche. Ok. Quindi abbiamo sbloccato anche altri impasti. Toast, toast alla cipolla. Oh che buono con la birra. Sarda sai cosa? Ho bisogno di una birra. Sento che sta nascendo una relazione a senso unico. Portami della birra e ti dirò un sacco di cose importanti. Ad esempio come puoi tornare a casa. Domande? Come faccio a tornare a casa? Brava 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 brava. Eh la retorica ti sembra una testa magica con le risposte? Beh tecnicamente sì. Sarda sei uno spazio. Aspetterò quella birra. Nessuna birra e nessuna risposta. Infame. Raccogliamo le bacche. Raccogliamo i funghi. Dai eh. Ma è questo? Giardino. Proprietà confiscata per uso commerciale. Contattare il proprietario della taverna Orazio. Ok. Vabbè quello che abbiamo letto adesso. Prendiamoci il nostro tronco e andiamo via. Spettacolare mi piace un sacco. È bellissimo. Ma a casa nostra. Aspetta. Ah quello è l'obitorio quindi in teoria a casa nostra sta qua. Giusto? Sì. E quindi io posso mettere. Il tronco però non lo posso mica mettere dentro. Allora. Aspettate un attimo. One moment. Guarda me vede qua. Ah sì. Pulisci. Posto per le pietre. Ah tronchi di legno. Quindi sì io lo prendo. Tac. Ah ok. Ottimo. E lì evidentemente c'è probabilmente ci andranno le pietre grosse. Qui. Costruzione. Usa il tavolo per progetti. Per accedere all'interfaccia ed edifici inizierà a costruire o rimuovere un oggetto dall'area. Alcuni oggetti verranno costruiti immediatamente. Alcuni necessiteranno di un piccolo lavoro extra con il tuo martello. Ciò impiegherà tempo ed energia. E ci sta. Ok. Quindi io posso pulire anche la mia proprietà. Però che siamo stanchissimi. Ma se io finisco completamente non è abbastanza stamina. Quindi in teoria o vado a dormire o mangio qualcosa. Giusto? Qui? Cos'è quel suono? Che è questo? Tannato cancello. Shady Snake? Verrò qui ogni notte se necessario. Ma alla fine ce la farò. Dovrei riuscire a rimuovere questi blocchi e a fortificare l'arco. Ok. Ah quindi ci vuole quella roba lì. Non ho energia. Aspè, aspè. Perché in teoria avevamo roba da mangiare, no? Dovamo mangiare? Più cinque. Conviene che ci torniamo. Oh, cosa c'è qui? Ricette semplici e gustosi. Vai Pia. Eh, devo capire pure le ricette come funzionano. Baule. Rimuovi oggetti. Ok. Quindi con la bomba? Facciamo esplodere tutto? Qui si può cucinare. E come faccio a utilizzare le ricette che ho trovato? Clicco sopra. Esattamente. Crea funghi al forno e me la cotta. Quindi... Come facciamo a fare i funghi al forno? Ok. Probabilmente dobbiamo fare qualche upgrade alla cucina. Ci vorrà il forno. Ah, ecco qui. Anche l'uovo fritto si può fare. Carne al forno. Non la possiamo fare, però. Perché ci vuole? Cosa ci vuole? Il carburante. Come lo mettiamo il carburante? Ok. Ci vuole il bastoncino di legno. Che noi non abbiamo. Sì. E... Ah, dieci. Ok, basta. Non parlo più. Eh, non mi addormi. Chi è questo? Mi sono rinvigorito. Non va bene. Non va bene per niente. Chi ti credi di essere? Sono il custode del cimitero. Evviva, un custode. Wow, sono qui per... Per chissà quanto tempo. Sono Yorick. Mi sento così solo. Povero, povero me. Peccato per te essere qui. Aspetta, no. Al contrario, sono felice di vederti. Ma abbiamo un tizio piuttosto sgradevole sepolto qui. Ci piacerebbe davvero avere un nuovo vicino di casa. Sembra qualcosa in cui può aiutarci, vero? Non sono esattamente sicuro del motivo per cui sono qui in realtà. Gerardo, mi ho solo detto di seppellire i corpi. Tu sei Yorick e lui è Gerardo. Divertente. Ah, quel teschio mezzo morto. Quel bastardo geloso. Posso rinvidare il nostro riposare tranquillo mentre... Ti sto prendendo in giro. È terribile qui. Soprattutto quel tipo nella tomba in basso a destra. È così scostumato. Potresti liberarti di lui. Disotterra lo e gettalo nel fiume. Posso persino darti questa licenza che ho rubato quando ero vivo. Quale licenza? È proprio fesso. Per disotterrare un cadavere ti serve una licenza. Il vecchio custode comprava le licenze attraverso la casella di posta vicino alla chiesa. Ah, quindi adesso dobbiamo disotterrare il tizio. Perfetto, perfetto. Allora direi che come prima, tra virgolette, puntata ci possiamo fermare qui. Diciamo che il gioco mi stuzzica e non poco. Quindi credo che qualche altro video sicuramente lo porterò sul canale. Anche per andare ad approfondire un pochino di più la storia. Intanto voi magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del titolo, se l'avete giocato, se avete intenzione di giocarlo, se avete consigli da darmi soprattutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e ci vediamo alla prossima.